Il narratore del gusto è colui che va in giro per i ristoranti, assaggia i piatti e poi gli racconta su un libro. Questo lo premetto perché voglio parlarvi del mio nuovo libro che ho creato e pubblicato in questi giorni. Ho scritto questo libro perché sono convinto che un sano stile di vita sia importante e parta dalla nostra alimentazione. Ho creato un gruppo composto da un nutrizionista, uno chef e un giornalista. Un nutrizionista che ci sappia indicare qual è l'alimentazione più corretta per noi, uno chef che sappia trasformare gli ingredienti in gusto e sapore. Io sono un appassionato di gusto e se non c'è il gusto non trovo il mio divertimento. Il libro racconta 40 ricette create appositamente per voi dove è possibile mangiare sano senza rinunciare al gusto.